Mamma, mi raccomando a te, ricordati quello che avete detto ieri, non farmi fare tutto il giro, prego, scusa il pezzo forte, bravo, mi raccomando Alfredo ragazzi, lo ricordate, no, voi dovete fare, ok perfetto, bravi ce l'avete, allora vai, iniziamo tutti dietro e parliamo, vai, forza, forza, prima ciascuno si gira, via, 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 Buonasera a tutti e benvenuti al Club S di Munte Beach, questa sera vi presentiamo la morte del figlio, ma dove sarà mio figlio? A tutto il giorno che sta fuori, appena viene, quando arriva mio figlio, ma dove sarà mai, dove sarà andato? Che succede? Sai cosa mi è perso in cesso oggi? Mentre correvo sugli finali, è arrivato un treno mio figlio, mio figlio, mio figlio, mio figlio sto male, dottore, ora vediamo, ci penso io, Alleluia Prendo le misure della salva No! Fermi! Tutti dentro, ma che cos'era questo? Così ve l'ho spiegato oggi? Chi è il regista? Allora, restate zitti, statevi assenti Che ho detto? Chi è il regista? Io tu Allora, rifacciamolo per cortesia Lento, come vi ho detto oggi, lo voglio LENTO! Fuori! Forza! LENTO! LENTO! BUONASERA! Benvenuti al Club S. Selinunte Beach Questa sera vi presentiamo la morte del figlio Ma dove sarà mio figlio? LENTO! 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 qui non c'è niente da fare chiami il peccino prego 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 Becchini, becchini! Salve solo il becchino, devo prendere le misure della salma. Prendiamolo! Ragazzi però, basta! Tu figlio come muori? Quella è una morte! Rispondi! Più morte! Ma mi sembrava giusto, mi sembra normale. Ve l'ho spiegato cento volte, poveriggio, cento! Sotto al sole, ho perso tempo! Inutile! E perché noi che abbiamo fatto? Chi è il regista? E allora devi stare? Bravo! Il prossimo mese te li do! E che cavolo! Adesso basta, la rifacciamo! Era troppo lenta, non mi è piaciuta! Facciamo la veloce! Più veloce! Molto più veloce! Dove è il mio figlio? Dove è il mio figlio? facciamogli un applauso e non avete fatto niente di giusto rifacciamogli era troppo veloce non si capiva niente ma avete scandito bene le parole la voglio diversa la voglio diversa dai diversa ragazzi lo sai forza diversa vai 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 buonasera a tutti benvenuti anche le feste di Montepinci questa sera ripresentiamo la morte del figlio mia allora il mio figlio ha tutto il giorno che vuole appena bene la macchina un po' che mi è successo camminando a un certo punto arriva un treno e mi fa oddio mio figlio no 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 un morto che ride non c'è mai visto sì sono qua prendiamo le misure avanti prendiamolo bravi bravi è così che la volete eccoli qua bravi bravi venite sul palco anche Arturo Eofeno venite fatemi un applauso più forte più forte